Diamo le informazioni utili per i cittadini privati che hanno subito danni nell'alluvione del 9 e 10 settembre scorso, che ha colpito Livorno, Colle Salvetti e Rosignano Marittimo. Il primo passo è compilare la scheda B. Attenzione, la scheda B serve solo a segnalare i danni subiti e non è la richiesta di contributo. Dove si trova? Si può scaricare dal sito www.regione.toscana.it emergenza Livorno oppure ritirare presso la sede del Genio Civile di Livorno via Aristide Nardini 31 dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 dal lunedì al venerdì. Gli uffici saranno aperti anche il sabato e la domenica agli stessi orari. Oppure sarà consegnata da volontari che in questi giorni stanno organizzando una consegna porta a porta. Insieme alla scheda B viene consegnato il Vademecum con tutte le indicazioni per la sua corretta compilazione. Una volta compilata, la scheda dovrà essere riconsegnata presso la sede del Genio Civile a Livorno. Oppure spedita via mail all'indirizzo mail emergenza.livorno.privati.regione.toscana.it Il termine per la consegna scade il 16 ottobre alle ore 17. Chi può compilare la scheda B? I titolari dell'immobile danneggiato o gli inquilini? Tipologia dei danni da segnalare. Sono da segnalare i danni relativi ai beni immobili. Tuttavia, si consiglia di elencare nell'apposito spazio dedicato ai danni subiti anche i danni riportati da altri beni, quali arredamenti, elettrodomestici, autovetture e ciclomotori. Se avete un'assicurazione, si dovrà indicare nell'apposito spazio. A cosa serve la scheda B? Serve a rilevare i danni. Verrà quindi inviata alla Protezione Civile Nazionale che dovrà stimare l'entità dei danni subiti. La stessa scheda è utile perché la Regione Toscana mette a disposizione un contributo sociale forfettario nelle prossime settimane. Il personale dell'ufficio del Commissario per l'emergenza sarà a disposizione presso la sede del Genio Civile di Livorno per fornire tutte le informazioni.